Girovago e tutto fare, pochi fronzoli, molta sostanza, Massimiliano Buselato è uno dei volti nuovi del centrocampo biancazzurro, il suo mentore Claudio Foscarini, quattro anni insieme nella Cittadella dalla 2011 alla 2015, il recupero del pallone, la qualità migliore della mezzala di Bassano del Grappa, che per inciso è un giocatore di buonissima qualità. Non tanti gol, dire il vero nel suo DNA, in totale nove, di cui due proprio contro il Pescara, nelle immagini marzo 2012, Cittadella Pescara 1-2, Buselato illude i Veneti, i biancazzurri ribaltano con due autentici gioielli, in calce la firma di Marco Sensovini e Lorenzo Insigne, sempre a marzo ma quattro anni dopo con la maglia della Ternana, sinistro di giustezza e vittoria di misura per gli Umbri di Roberto Breda, quinto K.O. consecutivo, il punto più basso del Pescara di Oddo, che poi però riuscì a rimettersi in carreggiata, finale saltante e promozione in Serie A, al termine del duplice spareggio col Trapani. Dopo tanto girovagare, Cittadella, Ternana, Salernitana, Bari e Foggia, per Massimiliano Buselato l'occasione di trovare finalmente una sua dimensione, soprattutto stabilita col Delfino. Soltanto 26 anni, ma già circa 250 presenze in B, hai giocato solo in cadetterie? Sì, sì, sì. Cioè niente male? Sì, ne ho fatto un po' adesso, spero di farne sempre di più, dai. Ho sempre giocato tanto, ho girato anche tanto, speriamo di riuscire a stabilizzarsi un po' di più. Vuoi mettere la radice a pescare, insomma? Sesta squadra in sei anni è un po' dura, traslochi, cambio giocatori, cambio, è un po' difficile la vita così, meglio stabilizzarsi. Se ce la si fa va meglio per me, va meglio per la mia famiglia. Parliamo anche delle tue caratteristiche, perché sei un elemento piuttosto versatile, utile, puoi ricoprire tutti e tre i ruoli del centrocampo. Sì, l'anno scorso ho giocato prevalentemente mezzala, ho giocato un paio di partite davanti alla difesa, il mio ruolo penso sia principalmente la mezzala comunque. A proposito, un centrocampo piuttosto affollato, già di spessore, se così sembrerebbe, poi c'è il campo, il campo dirà. Ma certo, però la stagione è lunga, ci sarà spazio penso per tutti, l'importante è che siano tutti bravi, perché nel momento in cui qualcuno si fa male o quando c'è bisogno di ricambio, più gente brava è, meglio è per la squadra.